Salve popolo di YouTube, oggi è la vigilia dell'Immacolata, questo è un vlog, oggi dobbiamo fare una nottata tutti insieme, tutta la comunità parrocchiale di San Giacomo, ed ecco che abbiamo iniziato con i primi approcci, per la nottata, vediamo di là, c'è il signor Robertinotti, Stiamo avvicinando la zona arrostimento, possiamo vedere qua la Sicilia, questa è la zona 8, questa è la zona 8 con la Sicilia, la Sicilia che dice, non si fuma perché quella salsiccia la dovremmo mangiare noi, ecco quella è salsiccia, un saluto anche dal nostro, un bel ragazzo, ed ecco dopo aver esplorato la zona calda, la zona 8, adesso vediamo la zona fredda, però per la zona fredda ci vediamo tra un attimo, scusate, ora ci stiamo avvicinando nella zona fredda, questa è la zona fredda, ecco vediamo con la patatina, le ragazze, ciao Anna, ciao Anna, saluta YouTube, saluto YouTube, e poi rimasti, veloce, no, no, saluto, ecco è già partito, è già partito, ma vediamo un po' la tavolata, la tavolata, ecco la tavolata è composta da degli spadezioni che mangiano, ecco le ragazze, 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 salutate YouTube, insomma questa è la nostra serata, la serata pre festività dell'immacolata, domani è 8 dicembre, oggi che hai mangiato le frittelle, adesso manderemo un piccolo filmato, dove si può travedere cosa sono, esatto, cosa sono le frittelle, come si mangiano le frittelle, esatto, esatto, perché le frittelle, le frittelle è solamente, le frittelle è solamente, il cibo tipico barlettano, ma bugia, è bugissima, vabbè comunque le mangiamo nei barlettani, quindi adesso mandiamo, un filmate, un videoclip, al tuo 3 parte il filmato, eh sì, 1, 2, 3, esce una luce qua dietro, ecco siamo all'esterno, aspetta, vedo che hanno visto, hanno assaporato questa frittella, sì infatti sono rimasti stupiti, no vedi che bella questa luce, guarda, posso anche schiacciarla così, scossa, ecco, allora, sono rimasti stupiti dal sapore della frittella, si sentiva che era croccante, sì infatti era buonissima, ovviamente come la facciamo nel barlettano, non la fa nessuna, quindi adesso stiamo entrando, si può vedere la porta d'ingresso, quella è la porta d'ingresso, vale la pena entrare di nuovo, fare vedere queste cose, comunque facciamo vedere l'ingresso, i bodyguard, entriamo a retromarchio, scusami, andiamo, 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 apri, ecco, si aprono le porte, facendo che sei brutto proprio, ecco, Siamo giunti al 2.35 di questa magica luce, non è stimolo del tutto quello che loro stanno facendo, infatti stanno tentando a pagare, appunto, è un'altra cosa, Grazie per la visione, ciao a Francesco e a Francesco.